Ma ragazzi non lascia solo, se no da verso la fiera, facci davanti la sagrezza, la porta a sinistra, in quell'aula che fa di presto, lì c'entra. Una cosa corta, eh? Prenza, scena a lui. Poi trago, c'entra. Oh, campanini, non è campanini. No, 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 campanini no. Vagia, ragazzi, fai quello che dicono. Chiamati, impegnati, no. Basta metterla. Non lo dico, no, no, no. Non lo dico, non lo dico, no. Va bene, vanno come 37, come si arriva, ragazzi. Perché campanini, vuoi l'aula. Campanini. Campanini, qua, come li vuole, sventi o... Sì, sventi. Cos'è che facciamolo? Allora, allora come lo so, lo facciamo? Facciamo al ciletto. Chi raccamberebbe? Ma questo a panni, no, no. Aspetta, aspetta, arrivo. Facciali a 36, dai. Dai, 36, non c'è la panni. Per andare lì dall'antenna. Ma comunque, il tuo ciletto lo fa. Ma bisogna tenere in seco, perciò. Ah, c'è la ciu, la ciu, ho fatto e tirato da sotto po'. Andate i dentini, la ciu, non è da parte. Gagnat? Guardi il 30, sì. Sì. Calare il quarto? Sì. Calare il quarto. Calare, no, rovescio. Caliamo di rovescio. Caliamo di rovescio. Caliamo di rovescio dopo te. Gagnat? Sì. Attenti allora. I vengli! Sì. Alla prossima! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.